Sei in diretta. Sei in diretta. Sei in diretta. Grazie. 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 Tanto bevete un po' di vino. Sì qua. Sì qua. Sì qua. Sì qua. Sì qua. Sì qua. Guarda qua. Sì. Sì. Sì, è anche la mia manina che saluta. Buonitine. Buonitine. Sì, sì. Siamo all'esposizione di fotografie di Katie Caraffa e stiamo guardando queste splendide fotografie. E loro le donne invece sono andate, allora questa piccina è sempre la tua. Ha qui durante una festa. Dove? E qui in Mauritania. Qui siamo a Cuba dove c'è questa spiaggia a Paracoa dove le ragazze inseguono le barche. E tu iscriverai per venderti le carcosme. Per venderti le rose. Venderti le rubacchine. Venderti le rubacchine. Venderti le rubacchine. Venderti le rubacchine quelle belle, quelle tutte colorate. Venderti le rubacchine. Si fanno a ruoto un sacco di strada, cioè di strada di mare per inseguire per venderti di strada di mare. Invece lì sono una scuola di ballo a Santiago, quella a destra, quella è la seconda ragazzina anche lei a Santiago. Santiago di Cuba. E poi invece Africa. E la ragazzina, quella lì che ho raccontato prima, quella che si è saltando la corda. Purtroppo è in quel villaggio, come ho detto all'inizio, che vi ha fatto le foto, che probabilmente è stata la ragazzina. Perché? No mamma mia. Perché all'inizio c'è stata un alluvione che ha tirato giù tutte le tende. Un alluvione che ha scritto tutto tutto. Mamma mia però. Scusatemi. Grazie. Bellissimo. Scusatemi. 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 Grazie a tutti.